Il Tribunale amministrativo di Salerno ha dichiarato illegittime le ordinanze emesse nel settembre scorso dal Comune di Nocera Inferiore, con cui obbligava la Gori a risolvere il problema degli scarichi delle acque reflue nei torrenti Cavaiola, Solofrano e Alveo, Comune, Nocerino. I giudici amministrativi hanno rilevato che la problematica era stata già abbondantemente affrontata e definita dalla Regione Campania, dall'ente idrico campano, dal Comune di Nocera Inferiore e dalla Gori. Il Tar ha anche condannato il Comune al pagamento di 2.000 euro per le spese di giudizio. Il Comune di Nocera Inferiore, si legge nella sentenza, è pienamente consapevole che la risoluzione della problematica ambientale in oggetto richiede interventi di natura strutturale per i quali, all'esito di pluriennali incontri tra le strutture pubbliche coinvolte, si è arrivati alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa, era l'aprile del 2018, che ha previsto la realizzazione di un progetto di opere di completamento della rete fognaria Nocera Inferiore da realizzarsi a cura della Gori. Gli eventi successivi confermano che il progetto è andato avanti e di poche ore fa la consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, così come un incontro con l'amministrazione comunale per preparare l'apertura del cantiere. Quindi la Gori non è responsabile nella risoluzione della problematica richiamata dal sindaco Torquato, c'è di più in considerazione del fatto che sulla base del quadro normativo e regolamentare vigente non può essere addebitato a Gori, gestore del servizio idrico integrato, il compito di provvedere a risorse finanziarie invariate, a effettuare in modo generico e indeterminato e nel ristretto termine assegnato dal Comune, 90 giorni, interventi risolutivi che sulla base delle acquisizioni già in passato vagliate nelle conferenze di servizio intervenute dovrebbero presupporre proprio le opere per le quali è stato sottoscritto il protocollo d'intesa. Infatti l'ordinanza adottata dal Comune di Nocere Inferiore e annullata dal TAR sovradimensiona le responsabilità del gestore del servizio idrico al quale è richiesto di provvedere in materia autonoma a risolvere una problematica per la quale le amministrazioni pubbliche coinvolte in primis lente idrico campano e lo stesso comune erano e sono consapevoli della necessità di realizzare interventi di natura straordinaria come il completamento della rete fognaria funzionali ad eliminare gli scarichi nei torrenti che richiedono impiego di ingenti somme, i fondi infatti sono stati stanziati dalla Regione Campania. I giudici hanno ritenuto l'ordinanza irrispettosa delle norme che disciplinano l'attività di Gori ma è anche carente sotto il profilo istruttorio e movitazionale. C'è di più, la sentenza evidenzia che il Comune non ha tenuto conto che Gori non può attivarsi autonomamente con impiego presumibile di ingenti risorse senza finanziamenti. La sentenza, si legge in una nota dell'azienda, ha chiaramente fissato il principio che le problematiche ambientali degli scarichi nei comuni ricadenti nell'area del bacino idrografico del Sarno devono essere risolti con interventi strutturati e finanziati dalla Regione Campania e dall'ente idrico campano e non possono essere risolti in maniera autonoma dalla Gori. Occorre invece che gli enti pubblici a vario titolo coinvolti, inclusi i comuni, procedano collaborando in maniera sinergica.